Sì, sarà la prima gara per me e nulla, come ho detto ai ragazzi a cui ho fatto i complimenti già ieri, ho trovato una squadra già nei primi due o tre allenamenti veramente tanto vogliosa, una squadra che veramente si è impegnata al massimo in questi giorni di allenamento e soprattutto non ho trovato nessun ragazzo che magari si possa a volte pensare che tiri un po' il fiore a mano, anzi tutti quanti hanno dato veramente il massimo in questa settimana, in questi giorni di allenamento. Sarà stata ovviamente magari la novità che comunque c'è nell'indole umana, capire un po' la novità e nulla, i ragazzi si sono veramente preparati bene, c'è tanto ovviamente da lavorare, abbiamo toccato alcuni punti, alcune cose da magari cercheremo di provare a farle uscire già domenica qualcosina, ma sarà ovviamente complesso, ci vuole un po' di tempo, però quello che ricercavo era appunto la loro disponibilità e su questa l'abbiamo avuto al 101%.